Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti nel primo video del mio nuovo canale YouTube. Sono contento che abbiate raggiunto questo canale, un canale che tratta temi, spero in modo interessante, riguardanti GNU Linux e il software libero. Per chi non lo sapesse, GNU Linux è un sistema operativo per computer, ossia quell'insieme di programmi di base che gestisce l'hardware e ti permette di interagire con il tuo PC. Esempi di altri sistemi operativi sono Windows, Mac OS, BSD e tanti altri. Ho pensato che non ci sia modo migliore per inaugurare il canale YouTube di parlare di 10 buoni motivi per cui usare GNU Linux. In realtà però ognuno di noi utilizza GNU Linux ogni giorno, quando naviga su internet. E sì, perché i siti su cui ti colleghi sicuramente sono installati su un qualche computer chiamato server e questo server eseguirà con tutta probabilità una qualche versione di Linux. se poi andiamo a considerare una componente importante di un sistema operativo, il cosiddetto kernel, possiamo allora affermare che tutti i possessori di uno smartphone Android eseguono un kernel Linux a loro insaputa. Ma bando alle ciance, cominciamo subito a parlare di questi 10 motivi senza seguire un ordine in particolare. Aggiornamenti Su Linux gli aggiornamenti non riguardano solamente gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema base, ma riguardano anche tutti i programmi su di esso installati. Ciò è molto comodo e conveniente. Con un click o addirittura in modo del tutto automatizzato ti ritroverai il computer completamente aggiornato e non ci penserai più. Gli aggiornamenti si installano mentre tu continui ad usare il computer normalmente e non richiedono un riavvio a meno che non si tratti di un aggiornamento del kernel. Ma anche in quel caso il sistema si spegnerà e riavierà velocemente senza mai presentarti una schermata di aggiornamenti in corso. Insomma, senza inutili attese interminabili. Sicurezza Purtroppo non esiste e non può esistere un sistema sicuro al 100%. Comunque GNU Linux è intrinsecamente molto più sicuro di Windows e questo per diverse ragioni. Innanzitutto esiste su Linux un sistema di gestione dei permessi dei file molto robusto. Inoltre viene eliminata la possibilità di installare maldestramente un malware da parte dell'utente. Questo perché i programmi non si recuperano da qualche parte in giro sul web ma da repository ufficiali ben controllati. Infine, GNU Linux è un sistema open source quindi si hanno molti più occhi che controllano le falle di sistema possibili falle di sistema. Infatti, su GNU Linux gli aggiornamenti di sicurezza vengono rilasciati molto velocemente qualora ce ne sia bisogno. Velocità Con GNU Linux puoi aumentare le prestazioni del tuo PC Personalmente uso PC molto datati che sicuramente non possono fare miracoli però il sistema con GNU Linux è abbastanza reattivo non sento minimamente il bisogno di comprare un nuovo PC e su di esso non potrei mai poter far girare una versione attuale di Windows Ricordo che quando ero un utente di Windows il sistema rallentava con il passare del tempo e c'era bisogno di defragmentare il disco Con Linux il problema non si è mai posto e non si pone Recupero vecchio PC Hai un vecchio PC che non usi più? Hai un PC con una qualche versione vecchia di Windows e che non reggerebbe un Windows attuale? Bene, puoi recuperarlo e dargli una nuova vita con GNU Linux Il pianeta sicuramente ringrazia Personalizzazione Le possibilità di personalizzazione su GNU Linux sono pressoché infinite e vanno da semplici personalizzazioni grafiche estetiche a configurazioni di componenti sotto la scocca Sicuramente non c'è alcun obbligo di personalizzazione ma diciamo che essa permette gli scopi più disparati Anche le semplici personalizzazioni grafiche permettono di cucire un sistema su misura per te stesso che quindi ti renderà più produttivo e sicuramente più soddisfatto nell'uso del tuo PC Trasparenza Ho accennato al fatto che GNU Linux è open source Ciò significa che è possibile leggere ispezionare il codice e vedere ogni componente del sistema Niente è nascosto Tutto è alla luce del sole Privacy A giorno d'oggi sembra che abbiamo perso la capacità di far rispettare i nostri diritti Sì, perché la privacy è un diritto Anche chi non ci sta a questo stato di cose pensa che recuperare un po' di privacy sia impossibile in questo mondo ipertecnologizzato Tuttavia è possibile in realtà è possibile fare qualcosa per guadagnare la nostra privacy e installare GNU Linux è sicuramente il primo passo Su GNU Linux nessuno ti spia Ricordate? È un sistema trasparente Quindi se per assurdo uno sviluppatore lo sviluppasse per spiarci starebbe ammettendo al mondo intero la sua colpa perché chiunque potrebbe accorgersene Libertà Su GNU Linux non esiste solo la libertà di vedere come è fatto la libertà di studiarlo in ogni suo particolare ma puoi anche modificarlo copiarlo redistribuirlo redistribuire le modifiche che hai fatto Sei libero di fare quel che ti pare Ma anche se non sei uno sviluppatore e quindi non sei capace di apportare delle modifiche Sei comunque libero di utilizzare il tuo PC per come ti viene in mente Senza sottostare ai dettami di una qualche multinazionale Senza lasciarti imporre delle scelte altrui Ti pare poco? Gratuità Software libero non significa necessariamente gratuito quindi non è sempre gratuito ma sicuramente puoi trovare centinaia di distribuzioni Linux gratuite che puoi installare e su di esse puoi installare altrettanto gratuitamente tutti i software gratuiti di cui hai bisogno Terminale Qui qualcuno sorcerà il naso Ma come? Il terminale? Eh sì Perché è il terminale la vera potenza di Linux Sicuramente non c'è l'obbligo di usarlo Sicuramente un principiante o un utente comune può benissimo evitare di utilizzarlo Ma è grazie al terminale che si aprono delle strade infinite è grazie al terminale che si aprono delle strade a te sconosciute Diciamo che l'unico limite sei te stesso l'unico limite è la tua conoscenza ma se impari ad utilizzare il terminale impari un modo più efficiente più versatile e generalmente più rapido di utilizzare il computer Bene, ho finito con la carrellata dei miei dieci motivi per cui utilizzare Grown Linux sul proprio computer Vorrei solamente consigliare una versione Linux in particolare una distribuzione Linux chiamata Linux Mint che sicuramente è adatta per principianti ed è gradevole e confortevole per chi viene da Windows Come vedete qua siamo sul sito di Linux Mint Linux Mint.com Esistono tre edizioni la Cinnamon Edition la Mate Edition e la XFCE Edition Tutte e tre molto simili Se avete un computer da 4GB in su come è probabile che ce l'avrete vi consiglio la Cinnamon Edition e niente questo è tutto per oggi Restate sintonizzati iscrivetevi al mio canale spero di poter fare video in breve Ciao a tutti da Klarintux Grazie a tutti